Musica Buongiorno a tutti, noi siamo la piccola stella della storia di San Antonio, su esempio, provincia di Torino. Per mettere in scena questa performance abbiamo utilizzato delle tipologie di robot, ciascuna con un software di programmazione diverso, lo NXT Arduino Huawei. Tutti i robot interagiscono tra di loro attraverso l'uso di sensori, contatto, RGB e ultrasuoni. Per accendere le stelle abbiamo usato due schede Arduino, a 20 decine ciascuna. Abbiamo usato i Huawei per animare i pianetini, realizzati con polissirolo e sopravdisegnato con i personaggi del libro. Per il piccolo principe, il libro La Rosa e la Volpe abbiamo usato gli NXT. Per la costruzione e l'architettura del piccolo principe non è stato usato alcun tutorial, perché è stato costruito in base al percorso ideato per i robot. La Rosa, come del resto della Volpe, è stata fatta con il metodo a pantografo, verticale per dare l'illusione della crescita per la Rosa, mentre per la Volpe l'idea è di uscire dalla sua tana con il pantografo orizzontale. In questo nostro progetto abbiamo coinvolto, oltre ai nostri compagni, anche l'unico professore di strumento di arte e tecnologia nella nostra scuola. È un professore dell'ITIS che c'è in consulenza su Arduino. L'idea iniziale che si è piaciuto a tutti era quella di realizzare un grande libro che è robotizzato, e questo poi ha determinato tutto lo stile della scenografia e dei personaggi. Abbiamo cercato di utilizzare quanto più possibile materiali recitati, perché la nostra scuola parte lezione, oltre ad essere impegnati con la robotica, è coinvolto ai progetti per salvaguardare l'ambiente. Buona visione a tutti, spero che vi piaccia lo spettacolo, quanto a noi ci siamo divertiti. Buona visione a tutti, spero che viaccia lo spettacolo, Buona visione a tutti. Buona visione a tutti. Buona visione a tutti. Buona visione a tutti.